è stata signore e signori una partita assurda esce Raffa Leao benvenuti in questo... fatemi allontanare benvenuti in questo nuovo video sto con la coperta perchè c'è un freddo boia ma comunque vi ho detto ieri un po' scommuniti che mi prendo una piccola pausa questo è vero, ma è post partita e i video che voglio fare, perchè in questo momento ragazzi non ho chissà quale voglia di fare video e sono molto incasinato con la scuola ve li porto, non preoccupatevi i post partita non mancano, state certi comunque adesso il Milan, una partita pazzesca novantesimo e bisogna vedere i minuti di recupero è stata una partita incredibile ragazzi già messia 6 minuti di recupero quindi staremo qua fino al novantaseiesimo vantaggio trovato al primo tempo con Brahim Diaz, cross, traversone in mezzo alla partita Brahim Diaz la tira centrale con Foster che la prende sulla ribattuta Brahim Diaz la mette dentro e fa 1-0 per il Milan adesso vi devo dire non mi ricordo, non so neanche perchè Brahim Diaz, perchè Foster stia giocando al posto di Iori ma comunque una partita incredibile le hao ragazzi queste cose forse possiamo dire che è tornato il vecchio Milan che ci eravamo abituati a vedere e questa ragazzi era una partita insidiosa perchè ci sono due squadre in crisi perchè il Milan anche se ha vinto l'utena contro il Torino e non facendo chissà quale prestazione è in crisi il Tottenham è in crisi anch'esso cioè il Tottenham che è in crisi è altalenante ma veramente molto altalenante e quindi era una partita che poteva finire da tripla veramente che poteva finire con la vittoria dell'una o dell'altra o anche un pareggio 0-0 noiosissimo che andando a vedere le occasioni non ci sono state tutte queste occasioni ma comunque il Milan ha andato a ampie fancate come direbbe come direbbe il buon Bruno Longhi ha falchiato molto sulle fasce e bisogna ragazzi vedere la prossima volta come andrà la gara di ritorno ma adesso qua c'è una gara andata che si sta concludendo Tio Hernández ha modito è già la prima stronzata fatta ma comunque tante cose si sono mossi tanto in contropiede e questa è una cosa che il Tottenham di Conte dovrà sicuramente dovrà sicuramente aggiustare perché non si possono far riprendere così tante volte Perisic sulla fascia non ha fatto niente inesistente se posso permettermi e tante volte si sono trovati salvati anche dalla fortuna e attenzione qua Richarlison Richarlison pallone adesso scavalcato ciao ciao ragazzi che partita ha fatto ciao ciao come lo volete chiamare io ho ancora capito prima pensavo ciao poi adesso sento tutti i telecronisti ciao ma comunque ciao è un altro giocatore pazzesco e adesso c'è a dire una cosa ma adesso ma ora quando rientra Tomori quale sarà la difesa del Milan Ternandez Tomori Calulu e Calabria come era prima Ternandez Calulu Chou e Calabria Ternandez Tomori Chou e Calabria oppure la più plausibile Ternandez Tomori Chou e Calabria che oggi ragazzi sulla fascia non ha spiegato è quello che io penso sempre ovvero che Calabria sa fare molto bene anche l'esterno onestamente ragazzi veramente il eeeh Richarlison buttati ancora a proposito di buttarsi perché non c'è ovviamente rigore una cosa una situazione da revisione netta da VAR era quella del fallaccio fatto da Cristian Romero ai danni di Sandrino Tonali e quello è il rosso diretto perché non va a cercare il pallone vediamo qua orca boia Krunic l'ha spinto però ecca qua stronzata la fatta non ci credo qua c'è anche un fallo forse in precedenza su Calulu su un cross di Calulu però questo è il Krunic non mi sembrava però comunque il fatto ragazzi però si è buttato sì niente si è buttato molto il coso di Charlison che adesso si alza quel fallo su Tonali era da rosso diretto e non esiste altra scusa quello è da rosso punto e basta per quanto riguarda se viviamo il calcio nei stessi modi c'è a dire ragazzi che c'è la situazione a fine primo tempo che mi ha fatto molto ridere ci sono state tipo quattro occasioni e il Tottenham tutte stoppate per il fuorigioco e c'è da dire che in una di quelle ragazzi io posso dire una cosa Tataruzanu in queste partite è ovviamente le sue colpe perché a volte veramente non si capisce se sia un portiere o una sedia ma seriamente ragazzi Tataruzanu non è un portiere cattivo è un portiere ragazzi che alcune volte le capellate te le fa non puoi usarlo ora come ora come il primo perché le capellate te le fa però vedete che quando fa qualcosa di buono lo fa bene ragazzi cioè oggi non mi sembra mai vista niente di che da parte di Tataruzanu ma non ha mai sfigurato anzi c'è stato un intervento sempre in quei dieci minuti finali nelle quali poi si è scoperto che era fuorigioco che ha fatto una grandissima parata una grandissima rispitta sul tiro di Harry Kane e intanto qua ultimi 20 secondi se non sbaglio era proprio Harry Kane quindi comunque ragazzi Tataruzanu è un portiere che non raffiderei mai la mia la mia portale da titolare se c'è un altro secondo magari me lo prendo meglio un altro secondo migliore un secondo portiere migliore ce l'ho fatta lo prenderei ma comunque bravi bravo il mira ragazzi e allora finisce qua finisce qua ragazzi il grande Milan è tornato il Milan di Berlusconi e allora ragazzi triplice fischio al salvio a San Siro il Milan esce trionfante buon San Valentino a tutti i tifosi del Milan che saranno sicuramente eccitatissimi ma comunque la spunta il Milan 1-0 contro il Tottenham e allora non dico niente ci vediamo ovviamente al ritorno contro il Tottenham per catto che era nella loro casa e vedremo che se in casa loro cosa succederà qua scambio di 5 per Brian Diaz match scorer e noi ci vediamo domani con i prossimi video poi probabilmente post partita ciao ciao